Il tema dei migranti che si trovano non solamente ad affrontare spesso delle traversate in condizioni climatiche difficilissime, dagli esiti sempre molto incerti, ma addirittura spesso anche dei pirati, alcuni sono stati fermati. Io non avevo mai visto fino ad adesso gente di mare che va contro persone che stanno già in grossissime difficoltà. Pescatori tunisini senza scrupoli, pronti a tutto lungo la rotta migratoria più mortale al mondo, quella del Mediterraneo centrale dove dal 2014 sono scomparse oltre 22.000 persone, più di 1.700 solo da inizio anno. E' lì che la procura di Agrigento, da sempre impegnata nella lotta contro trafficanti e torturatori di migranti, ha scoperto un nuovo fenomeno criminale, quello dei pescherecci che assaltano i barchini in continua partenza dalle coste di Sfax. I pirati portano via i motori, lasciando l'imbarcazione alla deriva, rubano a subsahariani e asiatici denaro, telefoni essenziali in mare per chiedere aiuto. Illusi da un ipotetico trainamento in mare per arrivare per abbracciarsi più velocemente alle coste italiane. Fermati il comandante di un motopesca e tre membri dell'equipaggio rischiano 20 anni di carcere. Le difficoltà della realtà tunisina hanno ulteriormente aggravato e incattivito anche gli uomini di mare. Grazie alle indagini di Polizia, Finanza e Guardia Costiera, per la prima volta viene contestato in Italia il reato di pirateria marittima. A Lampedusa gli sbarchi non hanno fine, ma le attività investigative incontrano un limite importante. Noi abbiamo bisogno di interpreti che si occupano di polizia giudiziaria, cioè di interpreti il cui lavoro può portare a delle condanne, può portare al carcere, può portare al sequestro di imbarcazioni come in questo caso.